Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Dio della speranza che ci riempie di gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con tutti i tuoi. Benvenuti a questo incontro con il Signore e tra noi. Benvenuti a vivere questo sacramento dell'opera del Signore ai nostri confronti. Viviamo nel giorno in cui facciamo memoria, facciamo presta, in onore della Peata Vergine Maria del Monte Carmelo. Ringraziamo sempre il Signore per il dono di Maria nella nostra vita, Madre di Gesù e Madre nostra, che accompagna il nostro cammino. E chiediamo perdono per i nostri peccati. Oggi la nostra celebrazione è arrivata anche da un venticinquesimo di matrimonio, tra Franco e Antonella, che benediremo subito dopo la comunione. E i cinque anni di matrimonio sono un dono di vita, di cui ringraziamo il Signore, un dono d'amore, di cui rendiamo un onore anche ad Antonella e Franco. E che è stato un dono d'amore, che è stato un dono d'amore, che è stato un dono d'amore. Vogliamo mettere tutto davanti al Signore per celebrare le regnamenti e invochiamo la sua misericordia. Grazie. 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 nostri peccati e ci conduca la vita eterna. Amen. Chirie eleison, christe eleison, christe eleison, christe eleison, christe eleison, gloria a Dio nell'alto dei Cieli. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che vogli legati nel mondo, abbi i peccati in noi, tu che vogli legati nel mondo, accorgi la nostra supplica, tu che siedi alla testa del Padre, abbi i peccati in noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo e all'antissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Madre Regina, fa che giungiamo felicemente alla Santa Montagna. Cristo Gesù, Signore nostro, e riedirne regna con te l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Adio. Amore. Amore. guardò e disse, non c'è nulla. Elia disse, tornaci ancora per sette volte. La settima volta riferì, ecco una nuvorecca come un amato uomo sale dal mare. Elia gli disse, va a dire da casa, attacchi davanti al carro e scendi, perché non ti sorprenda la pioggia. Subito il cielo si oscurò per i nudi e per il vento. La pioggia cambia di rotto. Parola di Dio. Regnale, grazie a Dio. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Signore, ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Signore, ti avviterà nella tua tenda, ti divorerà frutto santo monte. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente. non dice calumnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo, e non lancia insulto al suo vicino. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Ai suoi occhi è streggevole il bambagio, ma ora ora ti teme Signore. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galani Quando vende la tenenza del tempo Dio amando il suo figlio Nato da donna Nato sotto la legge Per riscattare coloro che erano sotto la legge Perché c'eressero l'adozione ai figli E che voi siete figli Nel proprio fatto che Dio Ha mandato nei nostri cuori Lo scritto del suo figlio che grida Abba, padre Quindi non siete schiavo ma figlio Se voi figlio Se anche erete per volontà di Dio Parola di Dio E grazie a Dio Alleluia 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 Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, con il Signore. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù. Sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Mancara. Gesù allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre. Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo. Ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Parola del Signore. È bello ritrovarci ogni anno nel nome del Signore per la celebrazione della Santa Messa. per la celebrazione, dunque, di questa realtà d'amore dell'Eucaristia. Ed è bello ritrovarsi nel nome di Maria, per rendere a lei culto, per rendere a lei onore. Come dice un adagio medievale di Maria, non diremo mai abbastanza, mai a sufficienza. tante sono le cose belle da poter dire, tante sono melodie da poter cantare, tante sono le ritanie con cui intercedere. E' la fantasia del popolo cristiano attributato a Maria D'Anno. Oggi noi la contempliamo con il titolo della Beata Vergine del Monte Carmelo. Quindi facciamo riferimento a un'esperienza precisa che segna questa festa e che quindi deve segnare anche la nostra vita. È l'esperienza di Elia. Una lettura ci narra come l'invocazione è capace di aprire i cieli. Dio ascolta il grido, Dio ascolta l'intercessione, Dio ascolta il lamento. E quindi agisce. L'ascolto si trasforma in azione. E dal cielo viene copiosa la pioggia. Ci dice la prima lettura. Dal cielo viene copiosa la grazia su di noi. Signore non ci fa mancare mai la sua grazia. Signore non ci fa mancare mai il suo ento nel cammino della vita. Noi lo invochiamo. Noi intercediamo. Signore ascolta, si aprono i cieli. Il cuore di Dio si apre e il suo amore si riversa su di noi. Il suo amore raggiunto una vetta, un pulmine in Gesù Cristo. Dì a tanto amico il mondo da dare il suo figlio. E la seconda lettura ci parlava di Gesù che è nato da donna e è nato sotto la legge. Cari fedeli, questa è la dimensione di tutti quanti noi. C'è una dimensione naturale che ci caratterizza. Siamo uomini, siamo donne, abbiamo la nostra natura. Ma poi c'è anche una dimensione culturale in cui noi siamo nati e che pure ci costituisce e che ci aiuta a vivere. Gesù Cristo è nato da donna, è nato sotto la legge. Anche lui vero uomo in una cultura che è quella di duemila anni fa nel Medio Oriente. Ognuno di noi ha una natura umana e vive in una cultura con dei valori, con degli ideali, con dei progetti, con dei sogni. ci riportiamo in pressi nella nostra carica. E il culmine dell'amore di Gesù per noi si raggiunge nel dono della sua vita. E il Vangelo che abbiamo ascoltato ci presenta appunto questo evento. Gesù che per amore nostro è disposto a dare la vita. E lo dicevi stesso. Non c'è amore più grande di questo che dare la vita. E lui la dà la vita per noi. E l'evento che ci racconta il Vangelo è appunto la crocifissione. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre. Quindi Maria è presso la croce di Gesù. Non è lontana, non è distante. Non è scappata via come gli altri apostoli. Ma è lì che sta. Ed ecco la fedeltà dell'essere verso suo figlio anche nell'ora della sofferenza. Nell'ora della croce. Quando noi nasciamo come Chiesa. Gesù vedendo la madre accanto a lei e il discepolo che gli amava disse donna ecco tuo figlio. Ed è la maternità universale di Maria che raggiunge tutti quanti noi. Ed è una maternità che nasce nel dolore e nell'amore. Come ogni maternità. Nasce nel dolore e nell'amore. E poi al discepolo ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'ha presa nella sua casa. Cari fedeli, questo Vangelo ci narra degli eventi ultimi della vita di Gesù in questa storia. La sua crocefissione e la sua morte. E degli eventi da cui noi siamo nati. Dall'amore incondizionato del Signore. Noi nasciamo come Chiesa. Questo Vangelo però dobbiamo tenerlo per presente perché non solo parla a noi ma parla anche di noi. e ci dice che presso la nostra croce, presso le nostre croci Maria è ben presente. Non è lontano, non è distante, non si assenta. Sta. Stava presso la croce di Gesù e sta presso la croce di ogni suo figlio. allora nell'ora del nostro dolore, nell'ora delle nostre croci che magari non pesano sulle spalle ma sicuramente nel cuore, noi non siamo soli. Maria è lì con la sua presenza materna a dirci che non ci abbandona, a dirci che lei è madre e che non tiene meno la sua presenza nella nostra vita ancora più quando affrontiamo il cammino della croce. Per cui non siamo soli, non siamo abbandonati a noi stessi, non siamo in pariare dei venti. La Maria è lì presente, stava presso la croce di Gesù e presso le nostre croce. e allora abbiamo questa compagnia di coleghe come dice la sopplica la Madonna di Pombè è la più dolce, la più tenera tra le mani. È lì, è lì per noi, è lì per sostenerci con la sua presenza, per darci forza con il suo amore. Ecco allora, cari fedeli, mentre noi la celebriamo ne buschiamo anche tutto l'amore materno. e accanto a lei il discepolo chiamava e Gesù disse alla madre donna ecco il tuo figlio. E lì noi nasciamo, tutti quanti noi nasciamo come figli di Maria. Maria non è soltanto madre di Gesù, ma nell'ora suprema, nell'ora del dolore, nell'ora della morte di Gesù, ecco che questa morte è per noi lì, la ci fa nascere e ci fa nascere come figli di Maria. Ecco tua madre, ecco il tuo figlio. E Maria, volgendo lo sguardo, vede questa moltitudine dei figli di cui è madre. In Gesù diventiamo tutti quanti noi i suoi figli. Donna, ecco il tuo figlio. E lo siamo realmente. per cui sentiamo tutta la bellezza e il fascino di questa maternità, di Maria che è anche madre nostra, della Madonna che è la nostra madre. Per cui quando guardiamo a lei non pensiamo soltanto alla madre di Gesù, ma pensiamo anche alla madre nostra, a questa maternità che si estende su tutti quanti noi. E questo ci permette di affrontare il cammino con una fiducia diversa. La fatica del cammino non viene meno. Anzi, la festa di oggi ci parla di un cammino verso la Santa Montagna che è Cristo. Quindi un cammino insalito, un cammino faticoso, ma quando più ci inanziamo tanto più il panorama diventa bello e spazioso per raggiungere chi? La verità è sempre Lui, è Gesù Cristo. La Santa Montagna che dobbiamo raggiungere è sempre Lui, è il Signore. E quindi il nostro cammino in salita ha un obiettivo preziosissimo, raggiungere il Signore nella nostra vita. Il vero Dio, il volto del quale Lìa ci sveglia, lotta. Lìa è un profeta sanguigno, ma non accetta mezze risure e compromessi. Lotta contro i profeti delle divinità false e bugiarde per annunciare il vero Dio, il volto del vero Dio che non lo trova, dice la scrittura nella tempesta, nei terremoti, nella violenza, lo trova nella carezza di un vento leggero, la ricerca di Dio. E noi siamo pellegrini, persone che camminano, siamo cercatori del Signore. Per questo ci notriamo ogni giorno verso la Santa Montagna. E poi disse al discepolo ecco tua madre, cari fedeli, e questo è il significato della festa. Ecco tua madre e da quel momento il discepolo l'ha presa nella sua casa. Allora festeggiare Maria, rendere culta Maria, rendere onore a Maria significa accoglierla sempre più nella nostra vita, fare spazio a lei nel nostro vissuto, nelle nostre opere, nei nostri giorni. Da quel momento l'ha corse nella sua casa, ecco, l'ha corse nella sua vita, l'ha corse nella sua famiglia, l'ha corse nel suo paese, nella sua comunità, gli fa spazio nel proprio cuore, nei propri pensieri. Maria diventa centrale, centrale, nella nostra vita cristiana. Attenzione, centrale ma non il centro, il centro è sempre Gesù Cristo, ma Maria è centrale nella nostra vita cristiana. Da quel momento il discepolo accorse nella sua casa, ecco, imitiamo il discepolo amato, noi che siamo discepoli amati e accogliamo Maria sempre di più nella nostra vita, lasciandoci da lei venere compagnia e lasciandoci da lei condurre verso il Santo Monte e Cristo suo Figlio. Sia lottato Gesù Cristo. A noi sempre Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi. Fratelli carissimi, e rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera al Dio Padre che ha promesso di abitare nei cuori di quanti come Maria custodiscono la sua parola. Preghiamo insieme e dicendo Ascoltaci oh Signore. Ascoltaci oh Signore. E la Santa Chiesa perché su esempio di Maria accolga con amore la parola e la proclamia al mondo. Preghiamo. Ascoltaci Signore. Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito perché la Vergine Maria volga su di essi i suoi occhi misericordiosi e i sollevi nelle loro angustie. Preghiamo. Ascoltaci Signore. Per l'ordine del Carmelo che contemple in Maria la sorella e la madre premulosa perché fedele alla vita di continua orazione testimoni e fratelli l'amore di Dio e la comunione con Lui. Preghiamo. Ascoltaci Per quanti si affidano a Maria segno di sicura speranza e di consolazione perché trovi in lei conforto e rifugio nelle necessità. Preghiamo. Ascoltaci Signore Per noi vi presenti perché partecipando con fede e amore a questa Eucaristia diventiamo come Maria portatori di Cristo al mondo. Preghiamo. Ascoltaci Signore Per la nostra comunità della Madonna del Carmelo perché senda tutto il fascino di avere Maria come lo pretece senda la bellezza di questa madre che veglia sui suoi figli guardi a Maria come abbiamo ascoltato quale segno di consolazione e di sicura speranza nel cammino della vita la verta presente nelle proprie croci la verta lì dove la gioia perché realmente noi cristiani godiamo sempre più della ricchezza e della bellezza di avere Maria quale madre nostra preghiamo per Franco per Antonella per i figli per la mamma perché questi 25 anni di matrimonio che sono una ricchezza immensa un dono grande e anche un impegno concreto possano essere il presupposto di un rinnovato impegno per un bambino di crescita ulteriore nella conoscenza e nell'amore e di testimonianza di Cristo e di Maria nella nostra vita preghiamo ascolta il Signore padre santo ascolta la preghiera dei tuoi figli e per l'intercessione di Maria madre regina del Carmelo concedi misericordioso quanto con fiducia ti domandiamo e Cristo nostro Signore amén preghiamo il mare manchiamo il corpo di Gesù preghiamo il mare manchiamo il corpo di Gesù anche se incontri siamo soltri perché insieme noi manchiamo solo pane preghiamo fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia è la domanda nel nome di Cristo posso offrire il sacrificio gratuito a Dio padre e di potente il Signore regina per anni a mani di questo sacrificio la donna e 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 la donna accoglio padre l'offerta che ti presentiamo nella sorella memoria della Beata Vergine Maria perché imitando la sua carità nel tuo servizio possiamo dirci primamente all'opera della redenzione per Cristo nostro Signore amén il Signore sia con voi e con il Signore in alto i nostri cuori sono prendiamo grazie al Signore il nostro Dio e cosa buona e giusta e veramente cosa buona e giusta è inanzare a te l'inno di benedizione di lode padre santo Dio in potente ed eterno ma è soprattutto dolce e doveroso magnificare il tuo amore per noi nel devoto ricordo di Maria sempre Nel mistero della redenzione tu l'hai scelta cooperatrice del tuo figlio madre e modello della Chiesa mistica stessa del monte Carmelo Maria illumina e guida i suoi figli che ha rivestito nel santo abito in segno della sua protezione con bondà materna e lo splendore della sua bellezza ci attrasse a te sulla via della perfetta carità perché nella contemplazione del tuo volto annunziamo ai fratelli le veraviglie del tuo amore per questo dono della tua benevolenza a vita agli angeli del cielo cambiamo una sola voce la tua gloria Santo 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 e Signore Dio dell'universo il cielo e la terra sono pieni della tua gloria o Santa o Santa o Santa o Santa nell'alto dei cieli venire venire un frodo di che viene nel o o mi viene nel signore o Santa o Santa o Santa o Santa Nell'alto dei cieli Veramente santo sei tuo padre Ponte di ogni santità Ti preghiamo salvifica questi doni Con la ruggata del tuo schifo Perché diventino per noi il corpo e il sangue Del Signore nostro Gesù Cristo Egli consegnandosi volontariamente Dalla passione, prese il pane Rese grazie e lo spezzò Lo diede ai suoi discepoli e disse Prendete e mangiate i luci Questo è il mio corpo offerto In sacrificio per voi Allo stesso modo dopo aver cenato Presi il calice e di nuovo Ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse Prendete e bevete i luci Questo è il calice del mio sangue Per la nuova ed eterna alleanza Versato per voi e per tutti In revisione dei peccati Fate questo in memoria di me Mistero della fede Annunziamo la tua morte, Signore Protoniamo la tua seduzione E la festa della tua vita Celebrante il memoriale della morte E risurrezione del tuo figlio Ti offriamo Padre E il pane della vita E il calice della salvezza E ti vendiamo calice Perché c'è che si degni Di stare alla tua presenza Accordi e del servizio San Giove Tua Padre Ti preghiamo milmente Per la comunione Accordi al sangue di Cristo Lo Spirito Santo Ci munisca in un solo porto Ricordati Padre E la tua chiesa diffusa Su tutta la terra Rendi la perfetta Nella nuova e unione Con il nostro Papa Francesco Il nostro Vescovo Gio I presbiteri e i diacoli Ricordati anche Dei nostri fratelli e sorelle Di Carmine 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 Maddalena E dei defundi Della famiglia Tesoniera Che si sono addormentati Nella speranza Della risurrezione E nella tua misericordia Di tutti i defundi Ammettili alla luce Del tuo volto Di noi tutti Abbiamo i misericordi Adonaci per parte Alla vita eterna Insieme con la Leata Maria Vergine Madre di Dio San Giuseppe Suo Sposo Gli Apostoli E tutti i Santi Che in ogni tempo Che furono graditi E in Gesù Cristo Tuo Figlio Canteremo La tua lode La tua gloria Per Cristo Con Cristo E in Cristo A te Dio Padre L'Omito Tente Nell'unità Dello Spirito Santo E nella gloria Per tutti i secoli Dei secoli Ammè Prima di partecipare Al barchetto Dell'Eucaristia Segno di riconciliazione Vincolo D'Unione Caterna Preghiamo insieme Come il Signore Ci ha insegnato Padre nostro Che sei nei cieli Sia santo Di padre Tuo nome E prego E prego E prego E prego Se la parla Tuo volontà Convincendo Così In terra Tra C'è oggi Il nostro Padre E prego 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 Diverci O Signore Da tutti i mali Procchi E la pace In altri giorni Con aiuto Della tua misericordia Vedremo sempre Diveri dal peccato Che si fu I da ogni paura Della Tese Che si compia La beata speranza E venga Il nostro Salvatore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo Vedete I tuoi Apostoli Mi lascio La pace Mi do La mia pace Non guardare I nostri Peccati Ma alla Sede Della tua Chiesa Dona Le Mi lascio Scambiamoci Lo sguardo Mi lascio Spagno di Dio Che togli i peccati Nel mondo Apri Gli Agnello Di Dio Che togli i peccati Nel mondo Apri Gli Agnello Di Dio Che togli i peccati Nel mondo Prova La mia pace Ecco Ecco L'agnello Di Dio Ecco Con I peccati Nel mondo Deati Gli Invitati Alla cena Della Agnello Oggi Signore Devo Solamente Di Fraticciare La Dottoressa Ma Di Soltando La Dottoressa 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 Grazie. 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 Ricorrendo il 25esimo anniversario, del giorno in cui mediante il sacramento del matrimonio congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare la vita. Grazie. Grazie. Riturare gli impegni solennemente esangiti davanti all'altà. benedizioni per cristo amico padre la comunione d'amore in questi sposi Franco e Antonella che ricordano davanti a te il giorno santo in cui si scambiarono l'anello in segno di fedeltà fa che sperimentino sempre più la grazia del sacramento nuziale per Cristo nostro Signore o Signore benedici questi anelli nuziali gli sposi che riporteranno a custodiscano integra la tua fedeltà rimangano nella tua volontà e nella tua pace vivano sempre nel reciproco amore per Cristo nostro Signore amico 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 Dio Creatore e Signore dell'universo che in principio è formato pure come la donna e li ha uniti in comunione di vita e di amore vi rendiamo grazie per chi ha riunito Frank e Antonella del Vingolo Santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa guardali o Signore con occhio di predilezione e come liquidassi tra le gioie e le prove della vita ravvive in loro la grazia del fatto luziale accresci l'amore e l'armonia dello spirito perché con la corona dei figli Esther e Andrea che oggi li festeggia insieme con la mamma godano sempre della tua benedizione per Cristo nostro Signore Amen un bel giorno il giorno di Maria che abbia sempre spazio nella vostra casa nella vostra famiglia, nel vostro cuore, nel vostro vissuto nelle opere vostre e nei giorni vostri e quando c'è Maria il cammino si fa con uno stato d'animo diverso sia quello della gioia sia quello del preso della vita Preghiamo O Dio nostro Padre la comunione col prezioso forte sangue del tuo figlio d'ordirabile del tuo amore fortifichi e renda fedeli imitatori delle virtù della Beata Vergine Maria coloro che si sono consacrati al tuo servizio per Cristo nostro Signore Amen che il Signore sia con voi e con il nostro Signore a ogni vocazione rispondiamo Amen Dio Onnipotente che ha posto l'ordine del Carmelo e tutti voi sotto la protezione di Maria vi riempia di gioia nella celebrazione di questa festa Amen vi concedo la grazia di meditare nei vostri cuori la parola e di proclamarla con la vostra vita per essere nel mondo un'immagine viva di Maria Amen vi conduco alla santità perché purificati da ogni colpa come figli fedeli di Maria arrivate quando prima alla piena comunione con i Santi nella gloria dopo la vostra morte Amen e la benedizione di Dio Onnipotente che il Padre, Figlio e Spirito Santo ti scenda su di voi e con voi valga sempre Amen glorifichiamo il Signore con la nostra vita andiamo in pace Amen Antonella, Franco, voi figli e mamma auguri di cuore e auguri a questa bella comunità per la festa della morte del Padre grazie 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 Tu sono la madre, sei vergine e madre, sei vergine e madre, regna la canzone. Tu sono la madre, sei vergine e madre, regna la canzone. Grazie a tutti.